Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Ore 15 e 11 di questo 8 marzo. Purtroppo devo denunciare pubblicamente una cosa triste, una cosa grave, grave e triste allo stesso tempo che mi sta capitando da un paio di giorni, da due o tre giorni a questa parte. Casualmente da quando ho fatto il video pubblico che ha contestato ovviamente questo provvedimento scritto sulla gazzetta ufficiale in merito a un super green pass e targato AMS, quindi quelle super green pass che sapete benissimo l'AMS vorrebbe imporre a tutto il mondo per controllare meglio le nostre vite. Ogni dubbio è più che recito. Bene, da quando ho fatto la diretta dove ho menzionato quello che è stato scritto sulla gazzetta ufficiale, poi di fatto smentito fortunatamente da Giorgio Meloni dove ha detto che è un errore, ce ne siamo accorti, ma non assolutamente l'Italia non aderirà a questi piani di green pass, di pass mondiale. Per fortuna Giorgio Meloni il ministro Schillaci hanno dichiarato questo, quindi sembra svanito il rischio di incappare in una censura mondiale o meglio di una gestione mondiale da parte di OMS e anche della nostra bella o brutta Italia, vedetela come vi pare. Bene, da quel momento lì sto ricevendo una censura imbarazzante, veramente imbarazzante sulla mia pagina. Pensate, 100 collegati, 200 collegati, pochissime persone in diretta, pochissime persone in diretta, nonostante i 340 mila persone che mi seguono. E la cosa clamorosa è che sto ricevendo telefonate addirittura, decine e centinaia di messaggini privati, whatsapp, telefonate, mail, cioè mi state cercando in tutti i modi per dirmi Robby non ti vedo. Addirittura ieri sera una signora da Como mi ha chiamato dicendo Robby ma sei ancora vivo perché non ti vedo più, non riesco più a vedere i tuoi video, è tutto bloccato, non mi arrivano più le notifiche da tempo, non mi arriva niente. Il problema amici è che questa censura, questa censura vergognosa, che penso che sia una censura da peggior dittatura dopo quella nazista, oppure pari di quella nazista, una dittatura vergognosa è una dittatura che palesemente stiamo subendo in tanti, in tanti e non attenzione perché diciamo cose gravi, perché diciamo cose offensive e cose pericolose, cioè tentiamo alla salute pubblica, no no perché diciamo semplicemente esprimiamo un pensiero lecito, veniamo censurati in modo vergognoso. Attenzione perché è una cosa molto grave, cioè quella che può sembrare una banalità per molti, dire ma sì che ce ne frega se non ci fanno vedere un post e ce lo bloccano. Amici è una cosa molto, molto, molto grave, molto grave perché qua in discussione non c'è tanto, vedete Silvia dice sei sparito per due giorni, me lo stanno confermando in tanti, attenzione è una cosa gravissima perché qua stanno attentando, è un attentato, un attentato alla nostra democrazia, cioè quei potenti, quei potenti che gestiscono il sistema e che hanno i loro servi stanno, attenzione, attentando, quindi denuncio una cosa gravissima, vi chiederei in privato di condividerla come potete, premettendo che potrebbero non farvelo condividere, stanno attentando alla nostra, un vero e proprio attentato alla nostra democrazia, cioè quindi è una forma di terrorismo, solo dei terroristi, cioè quelli che gestiscono il sistema, che vogliono limitare le persone che dicono io non sono d'accordo a un Green Pass mondiale e stanno, sono terroristi, stanno facendo atti terroristici, andando ad attentare in modo terroristico alla nostra democrazia. È una cosa grave, la mia denuncia seria, attenzione non sto giocando e non cerco neanche la compassione di nessuno, non me ne frega niente della compassione delle persone, me ne frega che a rischio ci sia la nostra democrazia, che la gente non sia. Vedete, vedo le tue dirette per pochi minuti, Clarissa, è una cosa gravissima, ciao da Correggio, ciao Alfa, ciao Lucilla, è una cosa gravissima, Robby è vero, Maria Adele conferma che è vero, quindi vorrei un tanto una conferma da voi, è vero che non vedete le notifiche, non vi arrivano le notifiche, delle volte fate addirittura a play ai video, mi dice la gente che fa play ai video e vede gli ultimi secondi e deve chiudere, non riesce a vedere i video, incredibile. Questa è una cosa, per non venire censurati, bisogna essere politicamente corretti, ad esempio auguri a tutti e diversamente mas, Christian, purtroppo è la verità. Amici, questa è una cosa e io adesso battute non le voglio fare e non è il momento di fare delle battute, perché purtroppo è una cosa gravissima, sono uno dei pochi che dico il vero, come dice Adriana, purtroppo. E quando tu dici il vero, dici il vero e ti bloccano i contenuti, ti bloccano il video, vuol dire che la tua verità è come un coltello pulgente nelle chiappe dell'avversario, come un ago, come uno spillino, quindi sono un piccolo spillino. Amici, stanno limitando le persone, stanno impendendo, guardate che sta calando, i collegati stanno calando, li stanno limitando anche in questo momento. Amici, stanno limitando la verità, stanno cercando di nascondere la verità, stanno cercando di far passare solo ed esclusivamente tra le notizie il loro pensiero unico, un pensiero che, attenzione, è distorto, distorge quello che è la nostra vita normale. Stanno facendo passare delle cose indegne solo perché la verità vogliono dettarla loro e non danno la possibilità alle persone di esprimere un parere. È una cosa gravissima che in democrazia non dovrebbe succedere. Capisco se succede questa cosa e non lo capisco, la capisco ma non la provo, se succede in Corea del Nord, capisco se succede in certi posti quali la Cina o quei paesi fanno peggio dell'Iran, fanno peggio dell'Iran di quegli stati dove c'è una vera e propria dittatura. Attenzione, i nostri occidenti, i nostri governanti occidentali a volte sono peggio degli estremisti islamici, sono peggio perché fanno semplicemente in modo educato una censura violenta, violentissima. Questa è una denuncia, la mia denuncia perché è una denuncia vera e propria, quella che sto facendo, perché non accetto da cittadino italiano che ha una costituzione chiara, che parla chiaramente, non accetto imposizioni di questo genere da paesi extra italiani, non europei, extra italiani o da personaggi che non sono italiani e non rappresentano la nostra democrazia. Io pretendo da cittadini italiani che vengano rispettate le regole e le leggi scritte a chiare lettere sulla nostra costituzione. Non esiste, non esiste. Se viaggiate fuori dall'Unione Europea vi rendete conto della differenza. In che senso li vi ero? Spiegati meglio. Troverò sempre il modo di dire la verità, non mi fate paura. Guardate, io stasera sono insieme a 500 ragazze, donne e uomini a cena e ne vedrò 1.500 in tutta la serata. Bene, siamo in un locale molto bello che è la crepa di Modena. Io la gente, parlerò chiaramente, la gente mi ferma e mi vede, quindi se non raggiungo le 100.000 persone qua, ne raggiungo 200.000 fuori per strada nell'arco di un mese, alle quali dirò a tutti attenzioni, i social network hanno dietro le spalle, sono obbligati, non è la colpa dei social network, ma delle persone che mettono all'interno dei social network alle quali danno la possibilità di limitare e sciadobanare le persone. Io alle persone esterne dico tutta e dirò tutta la verità, che siamo attaccati da gente che è peggio del peggior nazismo della seconda guerra mondiale, è peggio, perché sono persone che a differenza del nazismo sono anche sudore, lavorano di nascosto, sono pure meschine perché non hanno coraggio di dire le cose in faccia, lavorano di nascosto. Attenzione, questo è un attentato vero e proprio, è un attentato da denuncia, tanto che ho già mosso i miei vocati legali, sto preparando una diffida formale e una richiesta di accesso ai dati a Facebook perché voglio capire chi è che fa queste cose e dovranno rispondermi, perché sappiatelo che Zuckerberg e Facebook non vogliono questo, sono obbligati dalla comunità europea che è gestita da persone meschine, persone che fanno cose gravissime. Attenzione, non dovete, non dovete permettere a questi personaggi di calpestare la nostra democrazia, di calpestare, stracciare la nostra Costituzione che è sacro, santa. Attenzione, è vero, gente che ha la guerra nel cuore perché pensa solo ai soldi, questa purtroppo è la verità. Quindi la mia denuncia pubblica, vi chiederei di prendere questa denuncia, condividerla con tutti, condividerla assolutamente con tutti, la stessa Menoni verrà bannata se andrà avanti con questa cosa dove dice lei e il ministro Schillaci siamo contro il green pass dell'OMS, vedrete che la stessa presidente Menoni verrà bannata, limitata se non fatta destituire, il governo verrà fatto destituire se continua con queste cose, ve lo assicuro, anche se fa bene a continuare perché il popolo, attenzione, potrebbe non votare la Meloni perché magari ha idee differenti, però il popolo è d'accordo con la Meloni, si dice no a un green pass o un green pass dell'OMS internazionale perché dobbiamo mantenere la nostra identità a livello sanitario, a livello umano, a livello costituzionale, a livello democratico. Quindi amici, questa è una denuncia vera e propria, prendete la mia denuncia, condividetela, vi chiederei, siete quasi 400 collegati eravate, però vi chiederei, sono pochissimi rispetto agli utenti che ho sulla pagina, è veramente vergognoso, vi chiederei veramente di condividere con tutti questa mia denuncia pubblica, condividetela anche nei gruppi di Conte, Giuseppe Conte, che tra i mille difetti, tra i mille difetti alcune cose giuste le ha dette anche lui, dietro secondo me ci sono i democratici, ve lo dico onestamente, in Europa ci sono i democratici, gli ho visti in conferenza quello che hanno detto, veramente è una cosa indegna, quindi vi chiederei veramente di mandare a tutti, ma ha firmato il 2 marzo o no? Allora vi spiego, il 2 marzo è tutto ufficiale, il 2 marzo è in gazzettina ufficiale, è scritto in italiano, basta leggerlo, c'è indicato questo super green pass e tutto, hanno detto che è stato un errore, hanno detto che sono inceppati, incappati, mettetelo come vi pare in un errore, quindi il ministro Schillaci ha detto assolutamente no, non siamo noi, mi discosto da questa cosa, verrà fatto un emendamento per cancellare da questo decreto il green pass dell'OMS, verrà perché l'Italia non ha aderito, questa cosa è positiva da una parte, ma attenzione preoccupante dall'altra perché vedrete che Giorgia Meloni ne subirà le conseguenze, perché questi pensano di poter distruggere la nostra Costituzione e disintegrare la nostra libertà, ma noi andiamo avanti, ma noi andiamo avanti, cortesemente condividete con tutti, non ci credo proprio Gianfranco, non ci crede che cancellino il green pass, non lo cancelleranno, ormai l'ha detto, è obbligato a farlo, è obbligato a farlo, spero che sia servito anche, spero che sia chiaro per tutti, anche perché per non leggere più stronzate che scrivono, hanno scritto una stronzata, effetto. Fuori dall'Europa dice Ornella, ma amici, sarebbe la cosa, è una cosa che in tanti pensano, ma è veramente inattuabile, io ve lo dico, in tanti ne parano, ma fuori dall'Europa è veramente, veramente inattuabile, siamo uno Stato su precipizie, su burrone, abbiamo tanti di quei debiti che oggi è impossibile, però bisogna rimanerci facendo rispettare la nostra Costituzione e la nostra identità italiana, guai. Quindi la denuncia è fatta, è pubblica e vorrò vedere se avranno coraggio di bloccare anche una denuncia pubblica a un fatto gravissimo, ovvero quello che stanno limitando le persone se esprimono un parere. Io non accetto, non accetto di essere limitato se esprimo educatamente un parere, se esprimo un mio parere personale, tra parentesi, motivato da fatti reali, da fatti reali, se semplicemente dici io non sono d'accordo in un Green Pass mondiale perché ogni paese, a mio parere, ha delle regole differenti, dei modi di fare differenti, ha delle sanità gestite in modo differente e non può un organismo unico gestire tutto il mondo, assolutamente non può, è una cosa satanica, satanica, un ordine mondiale, amici, è scritto sulla Bibbia, è una cosa satanica, con tutto rispetto. Detto questo vi saluto, buona giornata, cortesemente condividete, so che questa cosa ha pochi da fastidio, ma tanti sono d'accordo con me, quindi tanti che sono d'accordo con me tirano fuori gli attributi, facciamo sentire la nostra voce tutti i giorni. Ciao, buon pomeriggio, buona festa della donna a tutte le donne e mi raccomando uomini rispettiamo le donne, sempre e comunque, è importante. Ciao a tutti.